Alla luce della ricostruzione della controversia tra Gallupi e Rosmini, effettuata nelle lezioni precedenti, rivolgendoci sia al loro carteggio sia alle loro opere, e tenendo presenti i nostri ragionamenti incentrati sulla tesi della sostanziale equipollenza tra la filosofia gallupiana dell'esperienza e la teoria rosminiana dell'essere ideale, possiamo pertanto affermare che la disputa tra Gallupi e Rosmini è basata sostanzialmente su un equivoco di fondo, il quale è all'origine della costante incomprensione reciproca da cui è segnato il loro confronto. Ma vi è un senso in cui tale incomprensione è ancora più radicale e che attiene al comune atteggiamento di Gallupi e Rosmini verso la problematica filosofica moderna in generale e verso l'idealismo tedesco in particolare, e che coinvolge conseguentemente anche il modo in cui Gallupi e Rosmini furono intesi, o meglio fraintesi, da interpreti ed espositori del loro pensiero sia nel proprio tempo sia successivamente fino ad oggi. Non a caso ad esempio Giovanni di Napoli nell'opera intitolata La filosofia di Pasquale Gallupi definisce Gallupi uno dei filosofi più deliberatamente fraintesi, ma aggiungiamo noi tale giudizio può essere riferito altrettanto opportunamente anche a Rosmini. Portare alla luce la radice dell'equivoco che si annida all'interno della polemica tra i nostri due filosofi costituisce la condicio sine qua non per intendere il significato che tale polemica assume ben al di là del semplice contesto di reazioni critiche suscitate nel dibattito filosofico italiano di primo ottocento dalla diffusione delle dottrine di Rosmini e ci consente, in ultima analisi, di collocare il confronto tra Gallupi ed il roveretano, come già detto nell'introduzione, nella fase attuale, la quarta fase degli studi rosminiani e di collegarlo in generale alle esigenze più vive della filosofia contemporanea. Per comprendere la ragione ultima del vicendevole fraintendimento tra Gallupi e Rosmini occorre infatti valutare bene l'accusa stessa di soggettivismo che entrambi muovono al pensiero moderno. Ognuno dei due rimproverà all'altro, come abbiamo visto, di essere incappato in quello che essi ritengono, secondo un giudizio largamente condiviso nella cultura filosofica dell'Ottocento, specialmente italiana, il vizio di fondo dell'intera filosofia moderna, appunto il soggettivismo o psicologismo, iniziato con Cartesio e sfociato nell'immanentismo idealistico egeliano. Ma occorre tenere presente che, in realtà, la filosofia moderna, a seguito della graduale e progressiva dissoluzione, a partire già dal Trecento con l'occamismo, della tradizione aristotelico-scolastica, era nata da un'esigenza propriamente fondazionale di rideterminazione di un nuovo criterio del conoscere e dell'agire. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che nel periodo a cavallo tra l'umanesimo rinascimentale e il preilluminismo, il periodo compreso grossomodo tra il Quattrocento e il Seicento, l'indagine filosofica è decisamente orientata alla ricerca di un metodo nuovo nella considerazione dei problemi filosofici e delle connesse questioni scientifiche, politiche, storiche, eccetera, come traspare del resto dei titoli stessi di alcune opere emblematiche del Seicento. Pensiamo al discorso sul metodo di Cartesio, al Novum Organum di Bacone e anche alla scienza nuova di Vico. Si tratta di un periodo nella storia della cultura occidentale ancora fortemente contrassegnato dallo spirito di sistema. Non a caso questo, lo spirito di sistema, uno degli obiettivi polemici dei filosofi illuministi. Un periodo, dicevo, caratterizzato da un'istanza sì tendenzialmente anticontemplativa, ma pur sempre speculativa, che sposta il baricentro della riflessione dalla realtà dell'essere alla realtà del pensiero e della capacità umana di conoscere e di agire attivamente sul mondo, ma che nel trasferire il sistema di certezze dall'oggetto al soggetto ripropone una visione metafisica ed assoluta delle cose. Ciò non vale solo per il razionalismo moderno dei vari Cartesi o Spinoza o Leibniz, ma anche per lo stesso empirismo e per la stessa scienza moderna, la quale, con Copernico, Galileo, Keplero e Newton, nonostante l'avversione al modello speculativo ed esplicativo di scienza proprio della classicità, è pur sempre caratterizzato da quel realismo gnosiologico che, solo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, con la crisi del paradigma meccanicistico-deterministico, si avviera al tramonto. Ma tale carattere realistico della scienza moderna dei secoli XVII e XVIII riveste una indubbia valenza metafisica ed epistemica, in virtù della quale si tende ad attribuire alla scienza sperimentale il potere, se non di spiegare, si pensi alla nota affermazione newtoniana ipoteses non fingo, quantomeno quello di descrivere il mondo così com'esso realmente ed oggettivamente è, sottraendo alla filosofia tradizionale la prerogativa di essere un sapere certo, oggettivo ed incontrovertibile. Lo stesso criticismo kantiano, che pur esprime il tentativo illuministico di ridimensionare le pretese della metafisica tradizionale, costituisce comunque un ulteriore esempio di ricerca di una dimensione irriducibilmente oggettiva all'interno dell'esperienza del soggetto, in grado di sfuggire allo spettro dello scetticismo iumiano, sebbene sia solo con Hegel che la ricerca di una oggettività del soggettivo diventa metafisica del pensiero e si rivolge non più però, entro una prospettiva illuministica, ad un sapere assoluto. Di conseguenza è possibile leggere la controversia tra Gallupi e Rosmini come una contrapposizione che matura a partire da una medesima esigenza di oggettività radicata nello svolgimento stesso del pensiero moderno. Entrambi i filosofi intendono ripensare la metafisica tradizionale sulla base di una nuova filosofia della soggettività, ed entrambi sono persuasi del fatto che per realizzare tale scopo si debba risolvere il problema fondamentale della oggettività e della realtà della conoscenza per scongiurare i rischi scettici della filosofia del soggetto, per evitare cioè che la filosofia del soggetto diventi soggettivismo o psicologismo. Ma nessuno dei due è pienamente consapevole del fatto che la soluzione di tale problema va prospettandosi in qualche modo già lungo la via imboccata dall'ognosiologismo moderno, il cosiddetto ignosiologismo moderno. Era stato lo stesso Hegel infatti a riaffermare il principio eleatico dell'unità tra pensiero ed essere, non solo contro il dualismo del pensiero precritico, ma contro lo stesso criticismo kantiano, ponendo la necessità di assegnare al pensiero una valenza ontica, proprio per innestare sulla teoria della conoscenza il discorso sull'essere. Ma ognuno dei due pensatori italiani vede nella centralità che l'altro attribuisce alla coscienza una posizione potenzialmente soggettivistica, perché entrambi sono portati ad identificare to court soggettivismo ed idealismo. Essi infatti riprendono consapevolmente dall'idealismo l'affermazione del carattere costituente, per così dire, della coscienza nella conoscenza oggettiva della realtà, esterna ed interna, il ruolo attivo, cioè del soggetto all'interno del processo conoscitivo. Ma il principio tipicamente moderno della soggettività viene mutuato sia da Gallupi che da Rosmini, stavolta in modo non del tutto consapevole, anche attraverso la dottrina dell'intuito dell'essere, analogamente anche a Gioberti. È solo infatti sulla base del principio della soggettività moderna che risulta ammissibile la tesi della intuizione immediata e diretta dell'essenza dell'essere da parte della coscienza, la quale, entro se stessa, mediante la propria testimonianza interiore, attinge un mondo di verità assoluta ed unitario, pur sussistendo tale mondo, nella sua inseità, per così dire, al di fuori della coscienza. Che allo spirito possa darsi direttamente lente è in realtà una idea estranea alle teorie della conoscenza della classicità e del medioevo. Se bere una tesi del genere, occorre aggiungere, sia già presente in qualche modo in Agostino e poi nell'agostinismo, ma in generale è un'idea estranea alle teorie della conoscenza del pensiero classico e medievale perché in queste teorie, in una forma o nell'altra, l'essenza delle cose costituisce sempre una struttura esterna alla mente, che può trovare un riflesso adeguato solo grazie alla mediazione operata dall'intelletto, il quale vede non già la realtà dell'essenza, bensì il rispecchiamento di tale realtà nel corrispondente concetto. E operando sui concetti e quindi dimostrativamente, dialetticamente per Platone, ad esempio, o sillogisticamente per Aristotele, ma non già intuitivamente, che per la filosofia antica la mente può cogliere lente, il quale perciò si dà ad essa solo indirettamente nella corrispondente nozione universale. Ma sia per Gallupi che per Rosmini è con un atto intuitivo, intenzionale, come abbiamo visto, attraverso un dato di fatto primitivo, cioè con la diretta, tramite la diretta esperienza interiore, che l'intelletto coglie l'essenza, e solo dopo, attraverso il ragionamento dimostrativo. Ma è proprio la tesi della originarietà del momento intuitivo rispetto a quello riflessivo del conoscere, ad esibire la profonda affinità dei due filosofi italiani con l'idealismo romantico tedesco, o il che è lo stesso, a mostrare la componente realistica dell'idealismo romantico. Su tale componente realistico-oggettivistica, per così dire, dell'idealismo, la quale impedisce di risolvere l'idealismo nel soggettivismo, ha concentrato la propria attenzione nel Novecento Gustavo Bontadini, il quale ha mostrato come la possibilità di rifondare la metafisica classica dell'essere, lasciandosi alle spalle la vecchia metafisica dogmatica, anche nella sua riproposizione neotomistica, ed evitando nel contempo gli esiti immanentistici dell'idealismo, ma riaffermando anzi il trascendentismo teistico cristiano, si configura proprio come una conseguenza dello sviluppo del pensiero moderno e dello stesso idealismo immanentistico. Quest'ultimo, infatti, l'idealismo immanentistico, culmine del soggettivismo moderno, contiene in sé l'antidoto contro il soggettivismo stesso, e ne consente il capovolgimento. Bontadini, infatti, sostiene che il significato essenziale dell'idealismo, cito, è la semplice soppressione del presupposto dualistico o naturalistico o del naturalismo in quanto presupposto, la negazione dell'alterità immediata, appunto presupposta, dell'essere al pensiero. Questa negazione è stata interpretata, prosegue Bontadini, così da certi idealisti come da certi critici dell'idealismo, quale risoluzione o annullamento dell'essere simpliciter nel pensiero. Se si considera, dice ancora Bontadini, che l'annullamento è solo dell'alterità dell'essere e non dell'essere stesso, si scorgerà che questo, tolto via come altro dal pensiero, è riaffermato come contenuto o termine intenzionale del pensiero stesso, e cioè validamente riaffermato, fine della citazione. È messo in questo passo lucidamente in evidenza il carattere intrinsecamente oggettivistico dell'idealismo, il quale, negando appunto la preesistenza della realtà rispetto al soggetto pensante come oggetto cognito, cioè come dato naturalistico contrapposto alla mente, non ha conciò negato la realtà dell'essere in quanto tale, nella sua assolutezza d'indipendenza dalla mente, perché lo ha riaffermato come termine intuitivamente oggettivo del pensiero, riproponendo implicitamente il realismo ontologico classico e cristiano, contro la tendenza dominante della modernità da cui lo stesso irrealismo è nato. Scrive ancora Bontadini, l'esito di quell'ognosiologismo, che era stato la caratteristica dominante del periodo moderno, da Bacone a Cartesio, sino all'altro ieri, sino all'edizione novecentesca dell'idealismo, è consistito essenzialmente in una autorettifica dei presupposti di partenza, che erano alla base della critica della metafisica e perciò in un autoscioglimento di quella critica, fine della citazione. Si potrebbe discutere della validità dell'interpretazione bontadiniana per quel che riguarda il neorealismo di Gentile, ma certamente tale interpretazione risulta, a nostro avviso, pienamente valida se riferita a Hegel, il cui idealismo intende superare in realtà il dualismo fenomenistico kantiano, solo parzialmente oggettivistico, perché limitato all'affermazione dell'oggettività del giudizio, per riproporre, pur dal punto di vista di una filosofia del soggetto, l'oggettività dell'essere. Anzi, ciò viene in chiaro proprio se rapportiamo l'hegelismo con il successivo idealismo italiano del novecento, ovvero con il cosiddetto neoidealismo gentiliano e crociano. Per Hegel, infatti, a differenza che per il neoidealismo, lo spirito è essenza immutabile, permanente e non puro divenire storico. Ne è una conferma, tra l'altro, l'atteggiamento critico del neorealismo crociano e gentiliano nei confronti dell'idealismo hegeliano, ancora compromesso, secondo Croce e Gentile, con una filosofia dell'essere, che ripropone, oggettivisticamente, sia pur solo all'interno della coscienza, la trascendenza della cosa in sé rispetto alla coscienza, dell'essere rispetto al pensiero. Scrive molto opportunamente Emanuele Severino, l'idealismo di Croce e Gentile si oppone a buona parte dell'idealismo classico tedesco, appunto perché l'idealismo classico, pur affermando che la realtà dipende dalla coscienza, non identifica la realtà al contenuto attuale della coscienza, non intende la realtà come contemporanea allo spirito cosciente. In altri termini, prosegue Severino, il neorealismo italiano non solo perviene alla negazione di ogni cosa in sé, che si costituisca come immutabile al di là del divenite della coscienza, ma anche alla negazione di ogni struttura che, all'interno della coscienza, pretenda porsi come immutabile. Scrive poi Eugenio Garen, nel Novecento, se di idealismo si parlerà ancora molto, sarà sotto forma di storicismo assoluto o di attualismo come in Gentile, che verrà esasperando l'affermazione del puro farsi spirituale, cioè dell'atto puro. In altri termini, prosegue Garen, l'idealismo che rinasce nel Novecento è un idealismo di tipo nuovo, aperto e costruttore, filosofia della prassi e della libertà, non contemplazione del mondo e del sapere. Fa notare, inoltre, Augusto Guerra, a proposito del giudizio di croce verso Kant, che il filosofo italiano, cito, non esita a concludere che nella sua avversione al sistema, cioè all'imago mundi o all'encicloperia, Kant fu più moderno e più storicista di Hegel. E proprio in virtù della permanenza in Hegel, di un punto di vista ancora sostanzialmente oggettivistico, in viso ai neodialisti posteriori, i quali annulleranno davvero l'essere nell'atto del pensare, che possiamo affermare che la interpretazione di Bontadini, se risulta, a nostro avviso, non completamente appropriata nei riguardi del neodialismo italiano, viceversa non fa una piega se riferita all'idealismo ottocentesco post-kantiano. Da questo punto di vista, l'aspetto più notevole della riflessione di Bontadini sull'idealismo sta nell'aver individuato, proprio nell'esperienza pura, in senso fenomenologico, il ponte tra l'idealismo e la metafisica tradizionale. E l'esperienza come presenza, di contro all'esperienza intesa come ricezione o come costruzione, il risultato dell'autoretifica operata dall'idealismo. Scrive in proposito Bontadini, l'essere, che è così validamente, correttamente affermato, è semplicemente l'essere dell'esperienza, ossia appunto l'essere immediatamente conosciuto. Fine della citazione. E la nozione dell'essere immediatamente conosciuto corrisponde proprio, come abbiamo visto, al concetto non empiristico di esperienza presente sia in Gallupi che in Rosmini. La chiave di lettura di Bontadini si rivela, infatti, assai feconda per una comprensione più approfondita dei rapporti tra Gallupi e Rosmini. Questi ultimi intendono coniugare il principio, come abbiamo detto in precedenza, il principio moderno di autocoscienza con quello classico dell'unità tra pensiero ed essere, per evitare il soggettivismo. Ma è questo l'intenso stesso di Hegel, per il quale pure il pensiero sussiste solo in quanto pensiero dell'essere, e la ragione non può essere formalisticamente ridotta ad una pura attività astratta opposta alla natura e alla storia, ma è da intendersi come il rivelarsi stesso dell'essere. Ciò è evidente non solo dalla contrapposizione di Hegel a Kant, ma anche dalla sua polemica verso gli stessi Fichte e Schelling, da lui rimproverati di aver concepito un cattivo infinito, quale vuota idealità soggettiva non autenticamente aderente alla realtà oggettiva e quindi impotente a garantire la certezza di un sistema scientifico della verità. È possibile, insomma, intravedere un legame fondamentale tra Gallupi e Rosmini da una parte e l'idealismo romantico, segnatamente hegeliano, dall'altra, ma in un senso molto diverso da quello elucidato da Spaventa e Gentile e che si evince proprio rispetto all'atteggiamento oggettivistico comune sia al romanticismo idealistico che spiritualistico. Il realismo oggettivistico non naturalistico dei due italiani può considerarsi infatti non già una versione difettosa dell'idealismo tedesco, come appunto sostengono Spaventa e Gentile, ma la variante realistica, ed il non aver compreso questo e il grande abbaglio, secondo me, della interpretazione spaventiano-gentiliana, di una medesima cultura filosofica, quella romantica, che è o in questa forma o in quella idealistica, che o in questa forma o in quella idealistica ha concepito il finito come la rivelazione dell'infinito ed ha inteso riunificare ideale e reale, razionale ed empirico, mondo soprasensibile e mondo sensibile, superando il dualismo e l'intellettualismo generati dalla filosofia moderna da Cartesio a Kant. Sia Gallupi che Rosmini non si accorgono però di tale elemento antisoggettivistico dell'idealismo tedesco post-kantiano, poiché anche essi, come gli esponenti dell'idealismo e neodealismo italiano concepiscono, sia pur da un punto di vista diametralmente opposto, il criticismo come preparazione dell'idealismo post-kantiano, non vedendo la profonda differenza esistente tra l'idealismo kantiano, che è puramente epistemologico, e quello hegeliano, che è essenzialmente ontologico. La presunta incompatibilità, dunque, tra le filosofie di Gallupi e Rosmini subisce, in virtù di tale discorso, un significativo ridimensionamento, che ci deve indurre a riportare i nostri due filosofi a quella comune sensibilità romantica che non solo è il collante tra le loro rispettive dottrine, ma è anche ciò che li ricollega all'idealismo tedesco post-kantiano, con il quale condividono l'opposizione ad ogni forma di meccanicismo, naturalismo, formalismo, fenomenismo o dualismo, tutti portati della cultura filosofica e illuministica, dal cui astrattismo intellettualistico sia l'idealismo romantico, sia i nostri pensatori italiani del risorgimento intendono prendere le distanze. Perciò le filosofie di Gallupi e Rosmini sono forme diverse di quel realismo oggettivistico che è a sua volta una delle due forme, accanto all'idealismo oggettivistico, della filosofia romantica, che è una filosofia dell'infinito, una filosofia dell'assoluto, che l'ideale si riveli e si mostri in modo più o meno adeguato nel reale, naturale e storico, che l'essere abbia, per usare le parole stesse di Rosmini nella teosofia, un modo di esistenza che rende possibile la comunicazione di sé ad una mente, fine della citazione, e si mostri al pensiero umano in modo da poter essere partecipato da esso, tale il contenuto filosofico del romanticismo. L'idea dell'essere, lo ricordiamo, è per Rosmini il divino nella natura, tant'è che egli definisce l'essere ideale come un crepuscolo del verbo divino e, ancora in un altro passo, un raggio della divinità che penetra nel creato. Appunto, la tesi secondo la quale il valore è presente nella storicità, pur non risolvendosi in essa ed eccedendo rispetto ad essa, è il vero comun denominatore tra Gallupi e Rosmini, che non può essere adeguatamente evidenziato se non ricorrendo, nell'esame dei rapporti tra i nostri due pensatori, ad un tipo di approccio che li ricontestualizzi e li restituisca alla loro comune temperie storico-culturale. Solo che, qui il passaggio centrale, se l'oggettivismo idealistico egeliano intende l'unità tra pensiero ed essere come identità sostanziale, assoluta e definitiva e traduce di conseguenza la filosofia dell'immanenza in immanentismo, conducendo così l'infinitizzazione della storia ad un esito dogmatico, l'oggettivismo realistico italiano riafferma la trascendenza dell'essere rispetto al pensiero e schiva così la metafisica del pensiero, ovvero l'oggettività del soggettivo. Ma il punto importante nel contesto del presente ragionamento è che, e qui facciamo nostra l'acutissima interpretazione di Bontadini, la trascendenza è riguadagnata inconsapevolmente, sia da Gallupi che da Rosmini, proprio sulla base di una filosofia dell'immanenza, ovvero sulla base dell'atteggiamento filosofico tipicamente idealistico. Il sentimento del me che sente un for di me di Gallupi, l'intuito dell'essere ideale di Rosmini, e ricordiamo anche la formula ideale di Gioberti, intendono configurare in un modo o nell'altro la possibilità di un'esperienza originaria immediatamente rivelatrice dell'essere assoluto, in una qualsiasi delle sue forme, anche solo in quella ideale come in Rosmini, ma proprio per questo intrinsecamente rivolta alla trascendenza. E insomma l'idea di esperienza come presenza, come dicevo poc'anzi, di cui parla appunto Bontadini, contrapposta ad un'idea di esperienza come ricezione, presupposta sia dall'empirismo che dal razionalismo, o ad un'idea di esperienza come costruzione, vedi il criticismo kantiano, e quindi base del modello intuizionistico ed interioristico di conoscenza, e dicevo proprio questa idea di esperienza come presenza, a costituire il fondamento della profonda unità tra pensiero gallupiano e pensiero rosminiano. Ma si tratta di una unità che lega Gallupi e Rosmini innanzitutto all'idealismo post-kantiano, del quale essi, proprio mediante il concetto di intenzionalità, riescono originalmente ad operare quella correzione che evita la immanentizzazione radicale propria di una metafisica della mente. Ognuno dei due pensatori non si rende conto però che l'altro ha sviluppato, in una forma diversa ma complementare, la componente oggettivistica dell'idealismo, oltrepassando originalmente lo stesso idealismo. Il senso autentico di tale oltrepassamento va però rintracciato non solo nella dimensione prettamente filosofica, ma anche in quella teologica e religiosa. Infatti, se sul piano strettamente filosofico una metafisica dell'immanenza, pur collocando la verità all'interno del divenire del mondo, è pur sempre oggettivistica, tanto quanto una metafisica della trascendenza, viceversa, sul piano teologico, l'oggettivismo idealistico non può che corrispondere nella sua trascrizione religiosa ad una visione panteistica del mondo. Per cui se è vero che una metafisica dell'immanenza è ancora una filosofia dell'essere, è altrettanto vero che essa richiede un'ulteriore integrazione teoretica se vuole rendersi disponibile ad un accordo con il teismo della rivelazione cristiana. In questo senso, con il realismo della triede italiana, ma anche in Francia va ricordato con il parallelo ed analogo movimento dell'eclettismo, ha luogo una significativa innovazione dello spirito romantico, sul cui tronco va innestandosi il trascendentismo cristiano. Il romanticismo filosofico si arricchisce così di una nuova opzione filosofica, quella del tradizionalismo spiritualistico, pur sempre radicata però nello stesso principio di fondo dell'idealismo immanentistico, e cioè nel principio della unità tra spirito ed ente, tra finito ed infinito, ed ugualmente caratterizzata da un'esigenza di sintesi e di sistematicità assente nel futuro spiritualismo novecentesco, che pure per molti aspetti si collocherà sulla linea del tradizionalismo romantico. In tale ordine di ragionamenti, l'immanenza contiene, costitutivamente, quella spinta all'assolutamente trascendente che consente di riaffermare contro l'illuminismo, l'unità tra valori e storicità, anche sul piano della tradizione teologica, oltre che su quello della tradizione filosofica. Occorre qui però rilevare che proprio in riferimento al diverso modo di riaffermare teologicamente il principio dell'unità tra valore e storia, va emergendo il vero discrimine tra pensiero gallupiano e rosminiano, che appunto, sosteniamo noi, non è filosofico, bensì essenzialmente teologico. E in realtà questo è il vero punto di rottura fra Gallupi e Rosmini, cioè il vero punto di rottura è di natura teologica, non di natura filosofica. Rosmini non può accettare la funzione fondativa che Gallupi assegna al sentimento, anche per un motivo legato al problema dell'accordo tra ragione e fede. Infatti è indubbio che facendo del sentito e non del pensato, l'oggetto intuito dalla coscienza, come fa appunto Gallupi, si può sì costruire una filosofia che non sia in contrasto con la religione cristiana, è tale infatti la filosofia di Gallupi, ma più difficilmente si può costruire una filosofia capace di mostrare la propria continuità sistematica e teoretica con la teologia cristiana, risultato raggiungibile più con la nozione rosminiana di essere ideale che non con quella gallupiana di esperienza. Quest'ultima, la nozione gallupiana di esperienza, implica è vero la possibilità di attingere l'essenza dell'essere, ma demandando per un puro atto di fede il passaggio dalla datità oggettiva dell'essenza alla realtà sussistente di essa, cioè Dio. Viceversa, se l'oggetto intuito è il pensato, come accade in Rosmini, quest'ultimo, cioè appunto il pensato, in quanto aspetto ideale dell'essere supremo, consente di mettere in relazione in maniera intrinseca immanenza e trascendenza, e quindi anche filosofia e teologia. Non a caso, diversamente da Gallupi, il quale, pur affermando con forza che la ragione filosofica si invera e si compie nel discorso teologico, non è interessato a mostrare il come di tale inveramento. Rosmini è fortemente interessato ad istituire una ricerca che abbracci l'intero scibile umano e l'intera realtà dell'essere, portando alla luce i punti di intersezione delle diverse forme di esso, cosa che egli farà in particolare con la sua legge del sintesismo e, in generale, col suo progetto teosofico. La posizione di Gallupi, scrive in proposito Tortora, e cito, è ben diversa da quella di un Rosmini che tenta di cristianizzare, tra virgolette, il pensiero moderno. Per Gallupi rimane e deve rimanere uno spazio proprio della ricerca filosofica, di una ricerca condotta con i mezzi propri della ragione ed eseguita in piena autonomia metodologica, anche se poi, egli ne è convinto, l'autentica verità speculativa non può non essere in consonanza con la verità religiosa. Fine della citazione. È interessante, a questo proposito, menzionare una lettera di Rosmini a Don Bertetti, del 14 marzo 1852, in cui, nell'esprimere meraviglia che i testi di Gallupi riscuotano tanto successo presso gli ambienti ecclesiastici, il roveretano scrive «Non so poi come in Roma si possa tenere il Gallupi come un filosofo di sana dottrina, quando egli, col suo soggettivismo, mette l'uomo invece di Dio per fondamento della verità». Fine della citazione. Ora, che l'atteggiamento dei due filosofi riguardo i rapporti tra ragione e fede fosse da sempre differente, era già desumibile dalla missiva di Gallupi a Rosmini del 9 agosto 1828, in risposta a quella inviata da Rosmini l'11 novembre 1827, a proposito del problema dell'origine del male. Abbiamo già considerato entrambe le lettere nella nostra prima lezione, ma analizzandole sotto altri aspetti. Può essere utile, in tal senso, richiamarle proprio per quel che attiene al tema del rapporto tra ragione e fede, e che, sebbene in queste lettere non sia sviluppato dei due interlocutori in maniera particolarmente approfondita, è comunque affrontato in modo tale da risultare indicativo della loro diversa posizione in merito. Come si ricorderà, nella lettera dell'11 novembre 1827, Rosmini aveva chiesto a Gallupi un parere sui contenuti degli opuscoli filosofici, con l'intento di ricevere lumi, soprattutto in merito al primo dei saggi inclusi nel primo tomo degli opuscoli, che affrontava problemi di gnosiologia. Ma, prima che Rosmini sollecitasse nuovamente il tropeana ad una discussione sui temi teoretici, Gallupi, nella risposta alla lettera suscitata, datata 9 agosto 1828, piuttosto che discutere del primo saggio, aveva espresso alcune considerazioni sul secondo dei saggi contenuti nel primo tomo degli opuscoli, intitolato «Sulle leggi secondo le quali sono distribuiti i beni e i mali temporali», cioè proprio su un argomento di natura etico-teologica. A questo proposito Gallupi aveva scritto «Ella tratta nel secondo saggio la spinosa questione dell'origine del male. Spesso ho proposto a me stesso questo problema. L'uomo attuale può egli, con un potere cui nulla manchi per l'atto, con le sole forze naturali, adempiere la legge della sua natura?» I filosofi, quasi generalmente, rispondono affermativamente alla questione proposta. «Le è noto quanto si è su questo oggetto disputato e scritto. Io, trovo il nodo indissolubile ed attendo per riscioglierlo che con la grazia del Redentore si cangi in visione la mia fede». Tale titubanza, nel considerare filosoficamente una questione che Gallupi ritiene fondamentalmente teologica, riaffiore in un'altra lettera del tropeano a Rosmini, anch'essa già da noi menzionata, ma relativamente ad altri aspetti, quella del 9 febbraio 1830, in cui la posizione gallupiana in materia di rapporti tra filosofia e teologia si presenta ancora più esplicitamente. In questa missiva Gallupi, rispondendo a Rosmini, il quale nella lettera datata 9 gennaio 1830 aveva sostenuto la propria tesi dell'essere ideale, anche richiamandosi l'autorità patristica, segnatamente di San Bonaventura, scrive «All'autorità di San Bonaventura poteva ella unire quella di Sant'Agostino e di altri padri cristiani, ma l'autorità di questi sempre rispettabili personaggi, scrive Gallupi, qual valore può ella avere in una questione meramente filosofica?». Fine della citazione. Gallupi si era già occupato della problematica teologica in alcune sue opere come il saggio filosofico e gli elementi di filosofia, dove anzi, ad esempio, proprio negli elementi di filosofia troviamo affermazioni del tipo, cito, «il Vangelo e la Chiesa di Gesù Cristo sono il fondamento e la colonna della verità», e vi è tutto un capitolo dedicato alla teologia naturale, negli elementi di filosofia. Gallupi tornerà ad occuparsi dei rapporti tra teologia e filosofia anche in seguito nelle lezioni di logica e metafisica e anche in altri scritti più tardi, il che mostra come egli, man mano che andava sviluppando ed ampliando il suo pensiero, abbia avvertito il bisogno di dare un sempre maggiore consolidamento sistematico ai rapporti, al rapporto tra ragione e fede. Rapporto che però fu d'altro piano sempre riconosciuto, sin dai tempi dello scritto giovanile intitolato Memoria apologetica del 1795, opera di carattere essenzialmente etico-religioso, come rapporto di armonia e di inseparabilità, pur nella reciproca autonomia dei due termini. Ecco perché, da quanto appena detto, non è lecito concludere, come ad esempio fa gentile che, cito, il concetto gallupiano della filosofia è intellettualistico, il concetto per contro, a cui giustamente mira il Rosmini, è piuttosto volontaristico, perché solleva la filosofia al suo peculiare carattere di scienza universale, che investe tutta la vita e governa quindi l'azione. Fine della citazione. Riteniamo che non sia lecita questa conclusione, pur riconoscendo il differente atteggiamento di Gallupi e di Rosmini rispetto al problema del rapporto tra ragione e fede, poiché infatti la differenza tra i due non riguarda tanto il concetto di filosofia, quanto il diverso modo di concepire e realizzare l'accordo, ma da entrambi ammesso tra filosofia e teologia. Ma soprattutto, ed è ciò che più conta in questa sede, entrambi intendono la relazione tra immanenza e trascendenza secondo quella complessa coesistenza tra due piani ontologici descritta da Bontadini, per la quale dall'esperienza dell'assoluto come presenza o manifestazione alla coscienza si passa, per un intrinseco sviluppo, all'idea di assoluto come realtà eccedente rispetto alla coscienza, come trascendenza della ragione. L'idea dell'assoluto, scrive sempre Bontadini, in quanto è presente appartiene all'esperienza, e il concetto di esperienza come presenza, appunto, di cui parlavamo prima, ma in quanto essa, l'idea di assoluto, è fornita di una intenzionalità che va oltre la presenza, ciò è voluto, come abbiamo visto, dal suo stesso significato, si distingue appunto contro l'esperienza, fine della citazione. E l'intenzionalità stessa della coscienza, insomma, che mentre da un lato dispone l'essere ad entrare in comunicazione col pensiero, richiede dall'altro lato il proprio in virtù di tale apparire o di svelarsi dell'essenza dell'essere, il trascendimento meta-empirico della stessa coscienza verso la sussistenza assoluta dell'essere. Ma nel passaggio dall'esperienza primitiva ed intuitiva dell'essere alla ragione come apprensione della realtà assoluta dell'essere o Dio, i poteri naturali dell'uomo esigono il soccorso soprannaturale ed il discorso ontologico si fa discorso ontoteologico. La intenzionalità trascendente, insita in quella immanente, consente così al realismo oggettivistico ed intuizionistico di sposarsi con lo spiritualismo cattolico.